Evangelizzare non è mai indottrinare o trasmettere una fede religiosa. Evangelizzare è un atto di generazione, è un generare nella paternità e nella maternità come fa l'Apostolo Paolo con Timotio, ma come fanno tutti coloro che vivono nella Chiesa. E questo atto di paternità e maternità che si genera l'altro nella fede non è un qualcosa di freddo, di astratto, di distaccato, ma è un portare dentro. E questo ci porta anche a capire il coraggio di cui parla il Vangelo nell'affrontare le persecuzioni, proprio perché se stati portati dentro nella paternità e nella maternità o nella genitorialità cristiana non si ha paura di nulla, ma si è capace di affrontare tutto. Il Signore ci doni di vivere l'Evangelizzazione come atti feconti di padri e madri che generano una moltitudine di figli alla fede cristiana. Buona Missio.